Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e sì, è arrivato il momento per cui mi avete frantumato le ovaie per un anno e mezzo, ovvero il video più richiesto, le domande più frequenti che appaiono su questo canale e io sono un po' sciocco basita per la cosa. Comunque, oggi vi faccio sto famoso video sui tatuaggi, sui miei tatuaggi, così la finite di chiedermelo, premessa per chi fosse capitato su questo video totalmente random, io odio parlare dei miei tatuaggi, è una cosa che mi mette molto a disagio, che non mi fa piacere fare e che in qualche modo per me è fonte di disagio, mi mette proprio in imbarazzo, ma non perché ci sia qualcosa ovviamente di male in quello che mi sono tatuata, anzi io amo molti miei tatuaggi e non mi sono mai pentita di essermi fatta nulla, ma è qualcosa che io percepisco come molto invasivo, quando mi chiedono dei miei tatuaggi, mi chiedono di spiegarli, eccetera, un conto è chiedermi dove l'ho fatto, da chi l'ho fatto, un conto è proprio quando mi parli, proprio mi dà fastidio, so che è un problema mio, tante persone invece ne sono estremamente felici, io lo vedo come un'invasione di campo. Quindi, chiusa questa premessa che già sta diventando molto lunga, io spero che questo video lo guardiate, perché se no io vi vengo a cercare a casa, visto che avete veramente frantumato le ovaie in tutti i modi possibili e immaginabili, e quindi... Anche Pupi è contrario a questo video, sì, Pupi, ma ce lo dobbiamo fare, vabbè. Questo non sarà il classico video delle youtuber o degli youtuber che vi fanno vedere i tatuaggi, primo perché io ne ho veramente una quantità molto elevata, quindi sarebbe lunghissimo e non c'ho voglia di stare qua sette ore. In più, non vi parlerò del significato di tantissimi tatuaggi, quindi, insomma, seguitemi, se non vi va bene, attaccatevi al... Partiamo dalla parte storica, cioè come vi sono avvicinata al mondo dei tatuaggi, come ho iniziato, perché ho iniziato a tatuarmi, eccetera. Allora, io da piccola sono sempre stata in mezzo al mondo dei tatuaggi, nel senso che dei carissimi amici di famiglia, i miei genitori avevano lo studio, i miei sono entrambi tatuati, in realtà mio babbo è molto tatuato e mia mamma invece ha tre cosine, però insomma anche lei è sempre stata un'appassionata. In generale, io sono cresciuta comunque in un ambiente dove il tatuaggio non fosse visto come il male nel mondo o l'anticristo e quindi fin da piccola, io proprio a me lo ricordo che quando entravo in studio c'erano tutte le immagini di queste donne di inizio secolo, delle donne degli anni 50, eccetera. Quindi gente appartenente al circo e un certo mondo dell'intrattenimento da un lato, ma anche proprio una cultura del primo tatuaggio americano degli anni 50, fine 40, 50, che a me mi aveva proprio colpita fin da subito. Cioè io mi ricordo che fin da quando ho 7 anni il mio sogno è diventare una di loro, cioè io vorrei avere il full body, cioè nel senso che il mio obiettivo nella vita è non di avere tanti tatuaggi ma di averne uno unico, cioè averne talmente tanti da coprire praticamente tutti i buchi. Ma perché è una cosa che io sogno fin da quando sono piccola, cioè i miei canoni estetici si sono spostati su quello e mentre, non so, le altre bambine sognavano di fare le principesse, io sognavo di fare l'acrobata al circo tutta tatuata. Vabbè, ma del resto voi siete abituati a queste mie stranezze. Quindi niente, insomma è una cosa che è sempre stata parte di me, nel senso che comunque culturalmente io non ho mai avuto una famiglia che mi dicesse no, non ti tatuare, che boh, cioè succedono le cose brutte nel mondo o da vecchia cosa farai. E infatti, insomma, anzi, per il mio primo tatuaggio, che l'ho fatto nello studio ovviamente degli amici di famiglia, mi ha accompagnato mia mamma, tranquillissima, non ha detto Beo, non avrebbe mai potuto dire Beo, il primo tatuaggio l'ho fatto a quasi 16 anni, ovviamente accompagnata dalla mamma ed è una micro stellina che io ho nel piede, che spero che la Tiffany del futuro abbia ripreso in qualche modo e vi faccio vedere. Non so come, sarà molto imbarazzante e strano fare sto video, lo ripeterò cento volte durante tutta la registrazione, scusatemi, però non sono proprio abituata a parlarne, è una cosa che mi fa stranissimo, figuratevi poi davanti a una telecamera da sola in una stanza con due gatti, vabbè, ma andiamo avanti, se no viene veramente eterno. Insomma, da lì io non mi sono mai fermata, ho sempre continuato perché in fondo inizi con uno e poi arrivi, boh, sopra la trentina che non te ne rendi neanche conto, ma nel senso che per me davvero è un qualcosa di molto identitario per me, nel senso che per me il tatuaggio è un qualcosa di forte da un lato perché comunque esprime o qualcosa di te o qualcosa che tu vuoi ricordare, vuoi portarti addosso e vuoi anche che le altre persone da un certo punto di vista tengano presente quando hanno a che fare con te, che è strano come concetto perché in realtà non è una cosa che io faccio direttamente, però in realtà inconsciamente lo è. E dall'altro lato io ho sempre avuto proprio una fissazione estetica per il tatuaggio, lo trovo un abbellimento, un qualcosa che adorna la pelle che secondo me è veramente meraviglioso, è molto significativo, molto bello e particolare e anche l'idea che sia un qualcosa di antico, boh non so, mi ha sempre affascinato. Detto ciò io ho un modo particolare per tatuarmi, poi passiamo ai tatuaggi così poi dopo arriviamo a quello che lo tengo per ultimo, nel senso che io inizialmente ovviamente mi sono tatuata qualche cosina piccola quando ero molto giovane nello studio degli amici di famiglia, ma poi ho iniziato proprio a cambiare mentalità per quanto riguarda il tatuaggio, anche un po' perché le cose iniziavano ad allargarsi e ora invece iniziano a rimpicciolirsi perché non ho più spazio e questo è un problema grosso. Diciamo che io mi considero una collezionatrice di tatuaggi, non una persona che si va a tatuare e vi spiego in che senso. Per chi è pratico di tatuaggio chiaramente non sarà nulla di nuovo, per chi magari non ne ha una più pallida idea questo non è chiaramente magari un comportamento tipico di chi si tatua ovvero io non mi tatuo sempre nello stesso posto, anzi devo dire che ad ora, a parte tanti amici che tatuano o sono nel mondo del tatuaggio, quello è un altro paio di maniche cerco sempre di trovare il tatuatore giusto in base al soggetto che voglio tatuare, quindi ad esempio spesso giro, moltissime volte non sono di Bologna i tatuatori da cui mi voglio tatuare oppure so che sono guest a Bologna o nei dintorni e quindi mi sposto e altre volte proprio in occasione di alcuni viaggi o organizzo dei viaggi apposta in modo che, non so, capito ad Hamburgo, vi faccio esempio di Hamburgo perché è uno dei viaggi che mi ha regalato uno dei miei tatuaggi preferiti in assoluto che vi faccio vedere dopo e ad esempio io cerco nella città dove vado un tatuatore che mi piace e che possa interpretare una delle migliaia di idee che io ho in testa e che vorrei vedere sul mio corpo. In altri casi so che c'è un tatuatore che io, tatuatore o tatuatrice chiaramente, che seguo da tantissimo tempo e che so che viene a Bologna, so che viene in Emilia, so che è a Firenze, so che è in Romagna, so che è in zona oppure viene in Italia proprio perché è all'estero, io faccio i salti mortali per prenotare un appuntamento e riuscire a incastrare il tatuaggio da questa persona perché fondamentalmente io ragiono in questo modo. Io ho in mente dei soggetti ma non mi piace dire come questi soggetti vengano fatti cioè a me piace avere un qualcosa di unico che è creato proprio nello stile dell'artista perché c'è soprattutto questa nuova generazione di tatuatori, nuova nel senso da una ventina d'anni a questa parte 25 anni a questa parte che chiaramente ha degli stili molto definiti, degli stili che comunque porta avanti nel tempo che si modificano nel tempo però insomma non è il tatuatore che fa un po' di tutto perché ci sta, servono anche quelli per fare un po' il grosso però diciamo che a me piace proprio vedere quello che è una creazione che è solo per me e che segue quelle che sono le mie indicazioni cioè io voglio questo soggetto, fa quello che ti pare io dico proprio esattamente questo voglio vedere come tu interpreti questa che è una mia idea o un qualcosa che io ho in testa ovviamente non è sempre possibile nel senso che non so ho dei tatuaggi che non è che avevano grande margine di interpretazione ma invece quasi sempre io do solo qualche linea guida e poi il tatuatore interpreta perché proprio per me anche proprio vedere il tatuaggio vedere il disegno, la bozza appena realizzata ed è qualcosa di unico e dove il tatuatore ci ha lavorato e ci ha messo del suo non so per me è emozionante anche quella fase è chiaro che se qualcosa non mi piace viene sistemata però devo dire che in tutti i casi mi è capitato proprio di rimanere a bocca aperta ed è ok hai capito quello che io volevo e sono sempre stata super contenta di quello che è saltato fuori è un modo strano di tatuarsi perché ci sono persone che invece vogliono avere totalmente il controllo sia sul disegno che sulla realizzazione perché capisco che è qualcosa che va sulla pelle io invece vorrei proprio diventare una sorta di bacheca dove tutti i tatuatori a cui io mi sono rivolta possano mettere un pezzettino della loro arte sopra la mia pelle cioè una cosa che a me proprio inorgoglisce vedere alcuni pezzi sul mio corpo mi rende molto felice so che non è strano, non è condivisibile eccetera però è come io interpreto il tatuaggio la pelle è la mia quindi sti cazzi altra cosa che secondo me in questo percorso è importante io negli anni ho conosciuto tantissime persone con tanti di loro sono diventate amici oppure amici che dieci anni fa facevano altro hanno iniziato a tatuare e sono diventati dei fenomeni devo dire fenomeni sono molto orgogliosa di loro infatti io ho fatto anche da prime tele di diverse persone cioè praticamente ho donato un pezzo di pelle per amore della causa di moltissimi di loro ad esempio ho più di un tatuaggio proprio perché magari qualcuno è stata la fase iniziale poi magari ho fatto fare altre cose durante il corso degli anni altre volte proprio magari all'inizio non ci conoscevamo e poi dopo ci siamo conosciuti per vie traverse quindi insomma ho diversi tatuaggi delle stesse persone proprio perché magari mi sono trovata bene una volta, bene due e poi può succedere però spesso giro e questo è una cosa che mi fa molto piacere proprio è una cosa che mi rende anche appassionante l'atto del tatuaggio come spero abbiate capito tra l'altro io sono una persona che si tatua da quasi 14 anni quindi visto che fra un po' ne facciamo 30 sono quasi 14 anni che mi tatuo e come vedete sono molto tatuata ma non completamente riempita per diverse questioni il primo è una questione meramente che io credo che i tatuaggi debbano crescere in base a come cresce la persona farseli in un unico momento è una stupidaggine gigantesca perché ci sono esperienze che maturano nel tempo almeno per una persona che non fa il tatuatore non è del mestiere eccetera eccetera poi è ovvio che ognuno fa quello che gli pare io la vedo così su di me e poi per una mera questione economica tatuarsi è qualcosa di costoso soprattutto perché quello che cerco di fare io è sempre di ricercare delle persone che sono dei professionisti che sono degli artisti comunque riconosciuti che hanno un certo tipo di reputazione perché non mi farei mai tatuare da personaggi casuali in uno scantinato in studi che non mi interessa nulla cioè in studi dove solo a guardarli ti viene l'epatite C cioè io cerco sempre di dare anche valore a quello che sto creando chiaramente non posso spendere migliaia di euro per uno sputo grande 4 centimetri però è vero anche che un artista che ti dà un certo tipo di lavoro ti restituisce un certo tipo di competenze che sicuramente ti può garantire esperienza qualità e tutto è giusto che venga pagato e che non possa pretendere che una sua opera costi 50 euro penso sia normale negli anni ne ho tanti perché sono più tatuata della media sicuramente ma non sono completamente riempita errore gravissimo il mio perché? e ora arriviamo alla parte del dolore perché io quando ero molto giovane davvero credevo di avere la cotenna di maiale quindi venendo alla domanda tatuarsi fa male? secondo me vanno tenute in considerazione diverse questioni la prima è che soglia di sopportazione abbiamo noi del dolore io ad esempio ho una soglia di sopportazione del dolore fisico molto alta ma molto molto alta ci sono persone che ad esempio sono assolutamente molto sensibili che a un primo tocco sentono dolore secondo dipende anche dal tipo di tatuaggio che fate una scrittina di 10 lettere a meno che non sia gotico, grosso, così poi non è più una scrittina di vedere la scrittona non potrà mai essere paragonabile a una sessione di 7 ore dove se alla settima ora sei ancora viva batti un colpo è chiaro che un tatuaggio da 10 minuti è diverso da un tatuaggio di 7 ore ma anche all'interno dello stesso tatuaggio le linee sono diverse dal colore le linee fanno più male tendenzialmente perché l'ago è più compatto e penetra la pelle leggermente di più con un movimento un po' più verticale invece la sfumatura può essere fatta da un ago piatto da un ago tondo ad aghi aperti e chiaramente colpisce la pelle raschiandola di più alcune persone ad esempio sentono più male nel colore poche ma la maggior parte sente molto male nelle linee e io sono tra quelle l'altro fattore è ovviamente la posizione ognuno ha dei punti nel corpo che sono più o meno dolorosi rispetto ad altri esempio proprio basilare le braccia anche all'interno del braccio hanno dei punti di sensibilità diversi far un tatuaggio qua sotto è diverso da fare un tatuaggio qua sotto fare un tatuaggio qui ha delle differenze rispetto qui e anche rispetto al gomito chiaramente fare le braccia è diverso di per sé rispetto a tatuarsi le costole rispetto a tatuarsi linguine rispetto a tatuarsi le gambe ogni persona ha dei punti molto differenti io ad esempio anche con l'avanzare dell'età ho molto cambiato la mia sensibilità ripeto quando ero una giovincella mi sono fatta la schiena addormentandomi perché non sentivo dolore anzi era quasi ormai rilassante era non so come dire con una leggerissima scarica che sentivi continuamente ma poi non era nemmeno dolorosa visto che il mio tatuaggio sulla schiena fa un giro sul fianco e arriva al ginocchio si passa dalla coscia e arriva praticamente al ginocchio un po' a un punto del cazzo ho fatto le costole io le costole sono arrivata ho dovuto fare le costole perché ho tutto questo fianco tatuato sono arrivata a casa avevo 39 di febbre una pancia gonfissima perché per me è un punto estremamente doloroso i piedi non mi hanno fatto male ho fatto le tibie anzi la tibia perché l'altra ancora ha il buchino proprio sul punto dove l'altra dove mi ero tatuata l'altra dove ho un mazzo di corvi e rose è stato il tatuaggio dove io ho sofferto di più in tutta la mia esistenza tanto che per quanto non sia enorme cioè è abbastanza grande ma non è enorme rispetto ad altri che ho per fare quello ho dovuto fare 4 sedute che non mi era mai successo cioè per fare quello che è molto più piccolo rispetto a tante altre zone ho dovuto fare molte più sedute perché la mia pelle si gonfiava talmente tanto che arrivava ad un punto dove appena appoggiava l'ago dopo 10 minuti io urlavo perché avevo un male atroce dipende e in più davvero come vi dicevo più vado avanti con l'età più mi tatuo più mi fa male mentre una volta boh fregava niente potevo stare lì 70 ore adesso dopo 2-3 ore inizio ad essere molto stanca inizio ad avere dei tempi di recupero molto più lunghi e sono un po' più debilitata fisicamente questo mi fermerà dal tatuarmi? assolutamente no quindi nel senso secondo me vi direi che una prima fase del tatuaggio è chiaramente molto simile a quella del silke peel perché è l'esempio che si fa di più per me il silke peel fa più male che i tatuaggi però secondo me dipende davvero da troppi fattori per questo magari ha senso iniziare da qualcosa di piccolino e poi ha senso magari proseguire cercando sempre di trovare quello che è il giusto compromesso per noi perché ogni fisico è veramente molto diversa la pelle assorbe il colore in maniera diversa la pelle reagisce al tatuaggio in maniera molto diversa insomma ognuno di noi è fatto diversamente quindi la domanda tatuarsi fa male sì certo che fa male se no ti andavi a bere uno sprizza pinarella di cervia ma è vero anche che ci sono soglie di dolore estremamente sopportabili soglie di dolore che non sono per tutti io per alcuni non ho sentito nulla per altri ho sentito un dolore insopportabile ma veniamo ai miei tatuaggi è arrivato il momento mi spoglio e oggi sono anche scollacciata come non sono mai nei miei video allora come promesso prima vi farò vedere solo il petto e le braccia perché le trovo le più facili da fare se no andiamo avanti un sacco e niente quindi banalmente partiamo dal petto così ce lo scaviamo perché è il primo che vedete io ho il petto che è diviso in due in realtà sono due pezzi diversi uno fatto in una prima fase che sono queste due cose che vedete ai lati e poi il pezzo centrale che arriva fino qua sotto partiamo dai lati che sono quelli più vecchiotti rispetto al centro del petto i due pezzi laterali io li ho fatti da Angela Smisek a Forlì è una tatuatrice bravissima nel traditional con diverse influenze sono un lucchetto a forma di cuore e una clessidra alata doloroso assolutamente no nel mio caso un po' lunghetto perché comunque ero in gita a Forlì sono tornata in macchina così questi hanno quasi dieci anni ne hanno nove e sono ancora super brillanti a livello di colore ho tenuto tutto non c'è un puntino quindi sono super felice di averli fatti Angela è bravissima super super contenta erano esattamente cosa avevo in mente vabbè il lucchetto è super tradizionale qua ci ho solo fatto aggiungere delle ali un po' più particolari e poi invece la parte centrale del petto l'ho fatta a Berlino adesso vi faccio vedere così poi dopo ci sarà un'inquadratura un po' migliore o una foto non lo so sono imbarazzata nel farvi vedere delle cose personali comunque allora praticamente il petto l'ho fatto a Berlino perché esattamente nel 2011 ho passato quasi una ventina di giorni a Berlino che eravamo in vacanza erano tempi diversi rispetto a quelli di adesso 20 giorni di ferie vabbè e niente a Berlino ci stava quella che ai tempi era la mia tatuattrice preferita ovvero Sara B. Bowlen io la seguivo da un sacco di anni per me era bravissima sempre stata eccezionale nel fare questo black work molto dettagliato con diverse influenze dell'epoca vittoriana di un certo tipo di illustrazione che riguarda soprattutto il fine ottocento o cose di questo tipo belle poca anche eccetera comunque insomma è tutto rivisto in una maniera molto personale e niente io quindi l'ho trovato quasi naturale ho prenotato il volo a Berlino ho prenotato il tatuaggio cioè 5 minuti dopo e niente praticamente doveva essere in realtà leggermente diverso nel senso che io volevo sicuramente una cornice avevo chiesto un lupo e una ragazza che ululavano messi vicini e una cornice che richiamasse la foresta e come vedete ho la cornice che richiama la foresta ma non ho la ragazza perché non ci stava nel senso che io come vi dico sempre sono molto minuta ma quando dico che sono molto minuta vuol dire che veramente lo sono e la gente non si rende conto che io sia piccola sia mignonne e quindi praticamente quando sono arrivata a Berlino Sara aveva preparato diversi soggetti perché io le avevo già anticipato che ero piccola ma lei non si rendeva conto di quanto piccola tanto che quando aveva fatto il primo stencil a me arrivava tipo qua cioè era una cosa che mi copriva completamente tutto il petto il collo eccetera e quindi ha dovuto fare il resize nel resize ci siamo rese conto che mettere due soggetti sarebbero venuti troppo piccoli e non sarebbe stato proprio molto bellino da vedere quindi alla fine mi hanno tolto la ragazza mi hanno lasciato solo il lupo che va benissimo a me non è cambiato nulla aveva aggiunto un sacco di dettagli che io amo questo è veramente uno dei miei tatuaggi preferiti in assoluto e per fortuna diciamo che in questo caso lei ha interpretato quella che era una mia idea nel suo stile che io sapevo che lei l'avrebbe fatto e quindi sono super felice e me lo porto sempre con orgoglio io non mostro mai il petto quasi sempre se avete visto io sono sempre molto accollata ma perché non mi piace andare in giro così poi la gente mi fissa mi mette molto a disagio però devo dire che questo è sempre motivo di orgoglio per me sono super felice e quindi niente passiamo alle braccia che qua ne abbiamo un bel po' da dire allora parto dalle mani perché questa è la mia ultima aggiunta non so neanche come farvele vedere in camera così forse così le vedete meglio però dopo vi faccio la foto faccio anche le prove del trucco qua vabbè e sono due foglie di felce e me le ha fatti martello ovvero la Chiara martelli comunque giù se qualcuno ve lo linko così potete darci un'occhiata io conosco Chiara da un sacco di anni e sono super felice che lei si sia messa a tatuare perché è bravissima è veramente bravissimo e quindi niente io le avevo detto Chiara voglia una fogliolina di felce glielo dico da due anni quindi figuriamoci e doveva essere grande così poi una volta lì per i dettagli per varie robe le abbiamo provate mi ha fatto vedere la foglia più grande messa sulle mani mi piaceva veramente troppo rispetto a quella che era la mia idea iniziale so che questo è un tatuaggio molto hardcore nel senso che è sulle mani ma ed è da gennaio che sono felicissima di avere le mani più naturali non so come dire sono veramente super belle fogliose sono molto contenta vi ho già detto che non vi parlerò dei significati perché non mi interessa farlo però è un tatuaggio che per me era molto importante e sono felicissima di averlo fatto davvero andiamo avanti ho qui una scrittina che mi sono fatta da sola la storia è un po' particolare nel senso che era una sera particolare vabbè ma comunque e niente è praticamente la scritta dice let it go che questo ve lo dico perché me lo sono tatuato perché io sono una persona che se le lega al dito forever cioè per me proprio non esiste il fool me once fool me twice per me è proprio il e in generale io sono una che prende veramente tutto molto di petto prende le cose veramente molto a cuore l'avrete capito io non riesco a lasciare stare e quando volevo tatuarmi sul polso una scritta che rappresentasse proprio un reminder che io mi devo mettere in testa e perseguire e che vuol dire ovviamente in italiano lascia stare ma in realtà secondo me in dialetto bolognese scusate che voi non capirete questa parte però less a stare che è la traduzione di let it go in bolognese è esattamente quello che significa questo tatuaggio potete tatuarmelo in dialetto però è proprio il fatto che ogni tanto bisogna lasciare stare che tanto ti fai solo del sangue cattivo cosa che io non faccio mai perché io penso di avere sangue marcio ormai e è contato qualcosa avere un reminder sul polso? no assolutamente no perché io non lascerò mai stare anzi però ci sta che ogni tanto ci si torna poi visto che siamo qua non so come farvelo vedere perché devo girare il braccio qui ho il mio marinaretto a forma di teschio che l'ha fatto Vince Vince Flagg io conosco Vince da un sacco di anni e anche questo doveva essere una cosina piccolina così e però era così bello il disegno e quindi niente è diventata una cosa gigante questo è veramente anche questo è uno dei miei tatuaggi preferiti sarà che ce l'ho sempre qua quindi lo vedo sempre e boh mi ricordo che io volevo un teschietto con un salvagente cioè volevo un qualcosa che ricordasse il mare per una serie di motivi legati alla mia famiglia eccetera e niente poi Vince ha visto delle cose si è messa a disegnarlo è venuto fuori questo l'abbiamo provato e così è andata ed è cioè io lo amo nel senso ci sono super legata è una cover up perché avevo una robina piccolina anche quella fatta da sola mentre facevo l'Etitco però cioè gli voglio troppo bene al mio teschietto poi passo direttamente qui quello che vedete sempre in tutti i miei video così è un boccino d'oro ovviamente e questo è stato il mio primo tatuaggio di Harry Potter ci tenevo tanto a disegnarmi il boccino per tanti motivi legati proprio al boccino però insomma dopo ci stava anche benissimo nel punto perché quando sto così si vede molto bene si intravede è sempre visibile quando parlo e quindi già le prime persone che mi vedono sanno che io sono una potterhead questo è molto importante e niente di fianco c'è anche una scrittina che l'ho fatta giusto perché ci stava bene proprio nella curva e così avevo un altro piccolo spazio per metterci altre cose che è Don't She Whip che è il titolo di una canzone di Bright Eyes e che non c'è da niente con Harry Potter però ci stava nel buco e copriva il buco e quindi sti cazzi e vado giù e ovviamente c'è la mappa del malandrino che è stata fatta da Alessandro Malossi io sono una fan penso dei Morauders da sempre quindi mi pareva naturale purtroppo non ci stava I solemnly swear quindi abbiamo optato per Mischief Manage ma comunque insomma la volevo ce l'ho sono felicissima della mappa del malandrino poi arriviamo a un'altra cosa che è un tentativo che questo sarebbe un rossetto quindi non mi ci soffermerò molto perché questo era un primo tatuaggio e poi arriviamo all'angolino che è anche se abbastanza consumato ma il giallo c'è ancora di brutto che è il mio gomito a forma di timone è una cosa questa è puramente estetica anche se è legata a questione marittima come vi dicevo prima però io lo volevo tantissimo è una cosa che mi era sempre piaciuta e quindi non potevo non farmi il gomito a forma di timone arrivo all'ultimo tatuaggio del mio braccio per ora perché come vedete c'è questa parte che è da riempire ma ci penseremo molto in fretta perché inizio a stare male quando vedo dei buchi nella mia pelle ve lo giuro ragazzi adesso ho la sindrome al contrario non è che ne vedo troppi è che ne vedo troppo pochi vabbè qui ho una sorta di demone barra creatura della mitologia norrena che è incazzata come una pantera che potrebbe rappresentare Tiffany 24 ore al giorno no a parte gli scherzi questo è il tatuaggio che vi dicevo prima che io ho fatto ad Hamburgo infatti ad Hamburgo quando stavo andando a trovare una delle mie migliori amiche che abita ad Hamburgo ormai da un sacco di anni cercavo il tatuatore di fiducia già ne conoscevo e ne seguivo diversi perché ovviamente appena si è trasferita io ho iniziato a cercare tatuatori e me ne piacevano moltissimo due ma poi per una questione un po' di incastri vari ho prenotato da Seb Winter che si è rivelato oltre adorabile veramente è stato carinissimo ha offerto non solo a me ma anche alle mie amiche che sono arrivate dopo eccetera da bere da mangiare è stato lì a chiacchierare dolcissimo e credo che sia veramente uno dei tatuaggi più precisi che io abbia davvero è stato fenomenale infatti se torno ad Hamburgo anzi quando torno ad Hamburgo una capatina ce la faccio sicuramente perché ha delle qua dei dettagli neri sottilissimi che non si sono espansi non hanno fatto un mezzo niente è bellissimo esattamente io gli ho detto voglio una donna con le corna incazzata come una pantera tac fatto lo amo li voglio troppo bere passo di qua perché ne ho saltato uno nel braccio madonna mi sto già annoiando a parlare dei miei tatuaggi comunque passo di qua perché ho saltato una cosa di qua ma perché bisogna vederli insieme che non vedrete insieme perché non ha senso devo farveli devo inquadrarveli comunque è il tatuaggio di today your love tomorrow the world che è una canzone dei Ramones io spero che voi lo sappiate perché se no dovete sapere basta e quindi niente anche questo è un primo tentativo quindi non è proprio perfetta però in realtà nonostante sia minuscola le linee sono belle definite quindi sono contentissima e niente la mia canzone preferita dei Ramones e quindi non potevo non tatuarmela passo alle altre cosine che sono poche in questo braccio ancora comunque ho una pigna che anche questo penso sia stato proprio il primo tatuaggio della Chiara Martello quella che poi mi ha fatto questa e mi ha fatto anche altre cose in giro per il corpo poi abbiamo un dito con un bel nastrino legato attorno che dice I forgive not forget che questo è stato fatto da Francesca invece vi linko tutti giù e poi ho la corona che è forse uno dei penso sia stato il secondo tatuaggio allora diciamo che è bello tamarro però ai tempi io ero abbastanza guerrita e niente poi c'è l'ultimo che vi faccio vedere da qua ma poi vi faccio inquadrare tutto intero ovviamente è una ragazza lettrice perché tiene in mano un libro in cui c'è scritto you're not alone quindi legge Roald Dahl che ci tenevo tantissimo a farlo e questo invece è dell'Alice Ai Maretti che io adoro mi ha già fatto due cose ogni volta secondo me fa dei capolavori almeno su di me io sono sempre super contenta soddisfatta interpreta molto molto bene quello che le chiedo e niente basta non ve ne faccio vedere altri perché già è stato lunghissimo e mi sono già stracciata le ovaie niente io spero di con questo video veramente di avervi detto tutto ciò che volevate sapere sui miei tatuaggi se c'è qualcosa che volevate sapere spero di avere un po' indagato dalla parte storica dalla parte diciamo come mi approccio io al tatuaggio cioè cosa rappresentano per me non ve lo dirò però in ogni caso anche se io non capisco questa curiosità un po' vorieristica bene l'abbiamo fatto quindi così vi linkerò a tutti questo video ce l'abbiamo ok detto ciò niente ultimissimo appunto io chiaramente continuerò a tatuarmi finché penso le uniche parti che rimarranno intatte del mio corpo rimarranno il collo almeno la parte davanti del collo perché qua c'è già un progetto e la faccia perché non sono gangsta e non sono nella dark polo gang e poi c'è tante altre cose tante non è che abbiano tanto spazio e quindi insomma ho tanti progetti tante idee man mano e vorrei comunque continuare a metterci il mio tempo nel farli anche perché non sono ricca purtroppo ma in più anche perché secondo me ci sono esperienze nella vita che piano piano tu devi un po' mettere a punto no? cioè devi un po' fissare quando succedono e niente io spero di avere soddisfatto davvero tutte le vostre curiosità se ne avete altre potete scriverle sotto questo video se me la sento vi rispondo che bulla che sono questo video vabbè niente io vi ringrazio per aver sascorso un po' di tempo insieme a me anche se oggi non si parla di libri basta devo dire che dopo questo video non parlerò mai più di tatuaggi io vi ringrazio come sempre direi che ci vediamo al prossimo video ciao